buongiorno a tutti non potevamo non essere presenti per la celebrazione della festa di san nicola oggi è il clou della festa perché appunto oggi è san nicola da tolentino perché giusto che sia anche la parte religiosa che è la parte più importante della festa padre veramente santo fonte di ogni santità santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di gesù cristo nostro signore egli offrendosi liberamente alla sua passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede i suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie lo diede i suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale grazie grazie grazie